In questo video voglio mostrarti un trick di programmazione che mi ha aperto la mente, utilizzando pattern matching sulle tuple. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Non mi ricordo dove l'avevo letto, ma un paio d'anni fa ero incappato in un articolo che parlava di pattern matching, facendo un esempio con il popolarissimo esercizio FizzBuzz. Tra parentesi, se sei di che articolo sto parlando, scrivimelo nei commenti, per favore. Per chi non lo sapesse, FizzBuzz è un esercizio che spesso fanno fare durante i colloqui di lavoro e si presenta così. Fammi un programma dove conti i primi, diciamo, 20 numeri da 0 a 19 e, se un numero è divisibile per 3, allora scrivi il suo standard output Fizz. Se è divisibile per 5, scrivi Buzz e se è divisibile sia per 3 che per 5, scrivi FizzBuzz. Se invece il numero non è divisibile né per 3 né per 5, allora scrivi il numero così com'è. Questo esercizio, molto semplice e banale, può essere risolto in vari modi e il più comune è quello di una serie di if e del sif, come puoi vedere in questo listato in un linguaggio Python. In linea 5 puoi vedere che la if ha due condizioni in AND, cioè se n modulo 3 vale 0 e se n modulo 5 vale 0. Il trick che ti voglio far vedere serve a semplificare tutti quei casi dove hai condizioni multiple come in questo caso, e si tratta di creare una tupla dove ogni elemento è una delle condizioni e puoi fare pattern matching sui valori possibili all'interno della tupla. Se non c'hai capito nulla, non ti preoccupare, con un esempio ti sarà tutto molto più chiaro. Ecco lo stesso esercizio FizzBuzz, questa volta in tre linguaggi di programmazione differenti, Elixir, Rust e Python, dove utilizzo il pattern matching su tuple. La magia inizia qui. Costruisco una tupla dove il primo elemento è n modulo 3, ed il secondo elemento è n modulo 5. Guarda caso le due condizioni che dicevamo in AND nella soluzione precedente che utilizzava le if. A questo punto abbiamo una tabella di verità. Con entrambi gli elementi a 0 significa che è divisibile sia per 3 che per 5. Con il primo elemento è 0 ed il secondo me ne frego, significa che è divisibile per 3. Con il secondo elemento è 0 ed il primo me ne frego, significa che è divisibile per 5. Altrimenti non è divisibile né per 3 né per 5. Nota come negli esempi nel Elixir e Rust i casi sembrino visivamente una tabella, mentre l'esempio in Python richiede due linee per ogni caso. Ed eccoci giunti alla parte del video che si trasforma in un rant, dove dico perché Python inizia a starmi stretto. Iniziamo col dire che il pattern matching in Python è stato introdotto relativamente di recente, solo dalla versione 3.10 rilasciata fino a 2021. Questo significa che altri linguaggi come per esempio Elixir e Rust avevano già il pattern matching da diversi anni quando Python ha deciso di implementarlo, e quindi Python poteva prendere spunto da cosa funziona e cosa no negli altri linguaggi. Invece Python ha fatto due errori a mio avviso nella sua implementazione del pattern matching. Il primo errore, più grave, è che in Python il pattern matching non è esaustivo. Cioè, se rimuovi l'ultima condizione, quella che copre tutti gli altri casi, in Elixir cresce a runtime, in Rust ti dà un errore di compilazione, E in Python sa che gli succede? Assolutamente niente. La funzione prosegue tranquillamente nella sua esecuzione come se niente fosse. E buona fortuna capire più in là nell'esecuzione del programma perché le cose non vanno come pensavi. Il secondo errore nell'implementazione del pattern matching in Python è che il pattern matching non è un'espressione, cioè non ritorna nessun valore. Ma questo è già più perdonabile perché Python non è un linguaggio expression-oriented. Un linguaggio è expression-oriented se tutti, o la maggior parte dei costrutti, nel linguaggio ritornano un valore. Elixir e Rust sono linguaggi expression-oriented. Questo significa che tutte le if, il pattern matching, il loop e via dicendo, ritornano un valore. Avrei notato l'assenza della parolina return negli esempi nell'Elixir e Rust. Questo perché in elixir e Rust il pattern matching ritorna un valore ed essendo questo valore l'ultimo all'interno della funzione, questo viene ritornato dalla funzione. Non solo, ma visto che nei linguaggi expression-oriented tutto è un'espressione, questo significa che posso mettere if, pattern matching, loop e via discorrendo in qualsiasi parte del mio programma. Prova per esempio a mettere un pattern matching come parametro di una funzione serie in Python. Concludo il rant dicendo che l'operatore ternario, il punto interrogativo dei punti nei linguaggi come cia e javascript per intenderci, non ha motivo di esistere nel linguaggio expression-oriented perché ho scostrutto if-else già di suo ritorno a un valore. Ok, sono partito per la tangente, scusa. Torniamo a noi. Dicevamo che se metti ogni condizione come elemento di una tupla e poi fai il pattern matching sulla tupla, ti ritrovi con una tabella dove compili i vari casi possibili e questo ti risulta in codice più compatto e con potenzialmente meno bug. Questo perché mentre compili la tabella ti porta a pensare tutti i casi possibile, mentre se usi una catena di if e del sif è più facile perdere qualche condizione per strada. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! Ciao!